Mileto. La borgata si presenta povera e meschina. Le case sono tutte a un piano, ricostrutte dopo il terremoto del 1783 che le rase al suolo. Si vedono ancora le rovine dell'abbazia della Santissima Trinità. Guardandomi indietro scorgo l'Etna in distanza, ma più sto attento avanti, poiché cerco un albergo. C'è, infatti. Che indecenza! È una bottega ad ogni sorta di porcherie vive e morte. Porco in salami attaccato al soffitto. Porco in sugna negli orci. Porco vivo che grufola negli angoli. E il padrone è la padrona. Camere da letto ce n'è una sola. Ed è occupata da un ingegnere che rileva per il catasto. Bisogna che cerchi fuori. Tra altri vado dal farmacista. Francamente piuttosto che prendere una medicina là mi lascio morire. Altro che antisepsi. Credo che sono colture di microbi anche le soluzioni di sublimato di quel farmacista. Ma le ricerche d'alloggio sono inutili. Torno all'albergo, dove naturalmente non c'è nulla neanche da mangiare. Ad occhio una gallina e le faccio tirare il collo. Questo mi fa passare per un creso. E la megera con l'orco si decidono a cedermi la loro camera.